La morte di Serena e del suo compagno ha lasciato la nostra città, la nostra comunità, costernata, addolorata e non ci sono parole per poter descrivere il dolore della famiglia, dei genitori, dei familiari, dell'intera comunità di Diamante. La cosa che ci indristisce è che questa ragazza, che era una ragazza straordinaria, si era laureata all'Università della Sapienza con 110 e l'Ode, aveva vinto un bando del CNR e lavorava sulla ricerca delle acque a Verbani. Ecco, una eccellenza, una giovane eccellenza della nostra regione è dovuta emigrare sul percorso della speranza che non la farà ritornare mai più nella nostra regione. Il nostro rammarico e il nostro senso di sconvitta di chi rappresenta le istituzioni e che tanti giovani ci lasciano è questa giovane nostra concittadina, è dovuta andare via nonostante le sue competenze e ci ha lasciato. Noi siamo veramente senza parole, siamo chiusi in questo momento nel nostro dolore. Dichiareremo il lutto cittadino e staremo accanto a questa famiglia, la famiglia Cosentino. Il padre è un lavoratore, una famiglia straordinaria, dedita al lavoro e che ha dato un grande contributo alla comunità. La nostra comunità cercherà di ripagare questo contributo dato stando unita accanto alla famiglia Cosentino.